Vi siete mai chiesti cosa ci sia dietro un gesto semplicissimo, che tra l'altro facciamo tutti i giorni, quale? Accendere la luce. Questa, come altre azioni, sono possibili solo grazie ad una cosa, l'energia. Quest'oggi, l'appuntamento con Andate a Teatro in collaborazione con Milano Teatri, lo dedico ad una tematica molto importante. Nucleare sì, nucleare no? Non ho la risposta, anche se il mio pensiero ce l'ho, ma una cosa vi posso consigliare. La visione di questo spettacolo. Cernobil, di Federico Bellini, regia Michele Sinisi. Con Stefano Braschi, Federica Fabiani, Giovanni Longhin, Donato Paternoster, Isabella Perego, Marco Ripoldi e Adele Tirante. Teatro Fontana, dal 2 al 26 novembre 2023. Senza energia, oggi, non si può più fare nulla. Non si può viaggiare, non si può ascoltare la musica, non possiamo usare il cellulare, ma soprattutto non potreste vedere né ascoltare la mia rubrica Andate a Teatro. Ovviamente l'energia non nasce da sola. Per questo motivo l'uomo la cerca un po' ovunque, nelle miniere di carbonio, nei pozzi petroliferi, fino alla più piccola particella di uranio. Purtroppo la ricerca dell'energia ha delle conseguenze negative. Questi processi creano degli scarti, che inquinano. Allora l'uomo ha cercato fonti di energia alternativa. Se pensiamo alla pianura ventosa, fino agli escrementi degli animali. Con la ricerca di energia alternativa, l'uomo ha trovato fonti energetiche migliori. La cosiddetta energia pulita, a basso costo. Che ha reso paesi più ricchi di altri. Difatti noi dipendiamo da altri paesi per l'energia e non solo. Come la mettiamo con il disastro di Cernobil, direte voi? All'epoca dell'incidente al reattore 4 di Cernobil, a molti nostri politici non pareva vero poter eliminare il nucleare attraverso un referendum. E oggi ci domandiamo, energia pulita alias nucleare sì? Energia pulita alias nucleare no? Tutto inizia con un atomo di uranio 235. L'atomo ha un nucleo che se colpito con un neutrone, si spacca in più frammenti liberando energia. Il nucleo, spaccandosi, genera nuovi neutroni, che a loro volta possono colpire il nucleo di un nuovo atomo, spaccarlo e così via all'infinito. Questa reazione a catena libera un'energia enorme, esplosiva. È così che funziona la fissione. E così funzionava il reattore di Cernobil, esploso nel 1986. Un accadimento che appartiene alla memoria di molti, di chi all'epoca era già nato e di chi questa storia se l'è sentita raccontare. Cernobil racconta un incidente che ha cambiato per sempre le nostre vite. Il nostro rapporto col tempo compresso in un istante infinito, centinaia di migliaia di anni schiacciati in quella fissione. Di lì a poco cadeva il muro di Berlino. I due schieramenti opposti nella guerra fredda si aprivano ad una nuova complessità di pensiero politica. Forse proprio da quel 26 aprile del 1986 è iniziato il viaggio verso il terzo millennio e lo sguardo sogni presente è cambiato più di quanto non si voglia ammettere. Lo spettacolo Cernobil parte dall'incidente alla centrale per metterne in scena l'immaginario che quell'evento ha generato e Michele Sinisi si addentra in una delle tragedie più pesanti del ventesimo secolo per offrire uno sguardo lucido sul presente e sulla nostra storia, una riflessione sulla vita prima e dopo Cernobil. Io lo spettacolo devo ancora andare a vederlo. Che dite? Ci andiamo assieme? Andate a teatro. Teatro Fontana, via Boltraffio 21, Milano. Per maggiori info contattate il seguente numero oppure inviate una mail a Orari dello spettacolo da martedì a venerdì ore 20 e 30 Sabato ore 19 e 30 Domenica ore 16 Buona serata a teatro.